e salve a tutti ragazzi benvenuti in questo nuovissimo video in cui farò un bel vlog allora oggi sono all'acquapark e c'è tutto questo caldo comunque diciamo sto video lo dovevo fare con qualcuno però non lo vogliono fare perché diciamo gli secco però ci tengo a salutare li saluto in questo video del vlog dell'acquapark allora saluto claudio schiera ciao claudio saluto federico da si respatta foro matilda grana e poi saluto tutti quelli che ci sono l'acquapark e poi saluto tutte le persone che mi conoscono soprattutto allora guardate che sono così perché ieri sono andata all'acquapark e mi sono ostinato tutto quindi per non essere a contatto al sole mi sono messo questo ieri avevo fatto un video che poi lo potete vedere su facebook quello che ho condiviso su facebook dove ci sono pure io con tutti i bannini c'è con tutte le persone sbagliato tutte le persone che facciamo a destra sinistra in avanti e poi la e poi italia una ci soppure io che salto come un pazzo è un bel video che ci sono pure io andato a vedere che è su facebook e ora poi farò una diretta live dove mi riprendo mentre mi buttano lo schiuma party e niente io cercherò di portare contenuti contenuti nuovi video quando posso perché per ora mi vado le vacanze quando potrò lo farò qualche video ogni tanto quindi vi saluto a tutti mando un bacio saluto quelli che ho salutato poco fa saluto claudio federico desiderio matilda e tutti quanti buone vacanze e ci vediamo presto con tanti nuovi video e alla prossima ciao ciao allora questo è un video sempre del blog dell'acqua parca allora mi sono scordato di saluto alle altre persone allora saluto mattia emanuele roberta claudio e alessio lo sono salutato a tutti allora saluto mattia emanuele roberta allora saluto mattia emanuele roberta